Il primo iscritto a parlare alla mattinata è Ugo Cherubini. Si prepari, Micheli. Dovrete scusarmi per il lessico non appropriato, visto che abbiamo fatto le 5 e un quarto di stamattina in commissione elettorale. E adesso proverò a dire due questioni, tentando, come penso che sia opportuno, di non interloquire con la relazione Nemiglio, nel senso di guardare qual era stato l'approccio e eventualmente fare delle considerazioni, ma provare a dire qualcosa in prima persona su questo percorso congressuale, sulla nostra categoria. Io ho apprezzato una cosa della relazione di Emilio. Il tentativo riuscito di articolare all'interno della nostra categoria tutto lo spaccato di diversificazione dei settori che non è facile impresa. Non è facile impresa per il tessuto economico-industriale che andiamo a rappresentare, non è facile impresa perché questo tessuto economico-industriale che noi rappresentiamo è figlio anche di culture differenti del fare sindacato. Questa è stata la scommessa dalla Costituzione, dalla Filtem, prima dalla Filtem oggi. Cosa serve un congresso? Normalmente un congresso servirebbe per fare la sintesi rispetto alle politiche sindacali che abbiamo messo in campo rispetto alla situazione che si è determinata, giudicare quali sono state le iniziative che abbiamo messo in campo rispetto agli obiettivi e rispetto ai risultati e dunque poter verificare rispetto a quell'analisi che noi facciamo rispetto ai risultati se la nostra azione è stata incisiva o se dobbiamo cambiare qualcosa nell'articolazione di quelli che vogliamo rappresentare. È un compito solo sui temi di categoria? Prevalentemente sì. Però la CGL, anche se siamo in una sede di congresso di categoria, ha un'espressione di rappresentanza che è anche di temi confederali. E molte volte le scelte dei temi confederali incidono anche nelle scelte delle politiche industriali della rappresentanza sindacale che noi facciamo all'interno delle categorie. È un dare avere di ritorno e di andate di ritorno che necessita per forza di cosa? Che ci sia un momento di congiunzione, di analisi nelle categorie con la confederazione e della confederazione con le categorie. Abbiamo fatto tutto bene? Penso di no. Senza qui in questa sede vorrei attribuire delle responsabilità. Dobbiamo analizzare quello che abbiamo fatto e dobbiamo capire qual è il progetto che vogliamo mettere in campo. E allora la dico così. Questa crisi può essere un'opportunità. È una considerazione fuori luogo? La crisi non l'abbiamo determinata noi. Non l'abbiamo determinata, ne stiamo subendo le conseguenze, ne stanno subendo le conseguenze i lavoratori. Allora perché dico che può essere un'opportunità? Perché tracciare il modello di sviluppo e che cosa vogliamo fare in un ambito di crisi dove è necessariamente indispensabile dover fare questa operazione può determinare la qualità della nostra azione. E per determinare la qualità della nostra azione noi abbiamo nella nostra categoria degli elementi su cui possiamo lavorare. Noi abbiamo un pezzo della nostra categoria che è la gestione dei servizi pubblici. Non dico ad intero capitale pubblico, però abbiamo una fotografia nel territorio che è l'espressione della gestione del servizio pubblico con governo del pubblico. Lì noi dobbiamo recitare un ruolo attivo. Cioè dobbiamo invertire la tendenza che i soggetti delle aziende pubbliche che gestiscono servizi pubblici con un valore industriale facciano vivere questa crisi semplicemente con un'espulsione dai posti di lavoro dei dipendenti ma dovrebbero essere il motore, assumersi il ruolo sociale di impresa per ridisegnare insieme un modello di sviluppo che tenga in considerazione i servizi che andiamo a derogare e i diritti dei lavoratori all'interno di quelle aziende. È una scommessa grande, è una scommessa grande ma non possiamo rinunciarci. Se non si assumono in questa situazione quelle aziende lì, un nuovo modello di sviluppo un nuovo modello di relazioni sindacali come facciamo ad esportarlo nei contesti del mondo industriale privato dove l'arroganza padronale determinata e caratterizzata anche dalla Fiat vuole recitare un ruolo attivo. non ce la facciamo, noi dobbiamo dare dei segnali di inversione e di tendenza e questo penso che sia un compito che questa categoria deve assumerci. incidono le nostre battaglie allora guardiamoci in faccia io la dico così io non voglio spendermi tra quelli che dicono avrei voluto fare la battaglia ma intanto i lavoratori non mi seguono e tra quelli che invece un po' con l'opportunismo dicono bisogna fare le battaglie e tutti i lavoratori ci seguono io non lo so se tutti i lavoratori ci seguono facciamo fatica però possiamo chiederci in termini propositivi perché facciamo fatica? e a me hanno insegnato una cosa che se facciamo fatica un primo grado di responsabilità ce l'ha il soggetto che rappresenta questi lavoratori perché è troppo comodo da scaricarla addosso ai lavoratori giustificando il nostro immobilismo dicendo intanto non ci sono le battaglie che non si fanno sono già perse in partenza allora proviamoci con delle piattaforme con delle parole d'ordine quelle che riusciamo ad elaborare che offriamo ai lavoratori che spieghiamo ai lavoratori con cui ci confrontiamo in assemblea con i lavoratori e ai quali facciamo votare con voto vincolante con voto vincolante e lo dico espressamente il voto vincolante non è un lacciuolo è una grande risorsa che l'organizzazione c'ha perché dimostra alla controparte che i lavoratori sono con noi non dobbiamo viverlo come un elemento di disturbo o di condizione che ci mette in una condizione di subalternità e allora sull'accordo della rappresentanza qualcosa dobbiamo dirci e su cosa intendiamo per rapporti unitari con le altre organizzazioni sindacali dobbiamo intenderci e cercherò e mi prendo due secondi di essere il più laico possibile il meno ideologico possibile su questa cosa qui quell'accordo della rappresentanza ha dei punti di avanzamento e ha delle situazioni che hanno caratterizzato anche le nostre richieste nel tempo sì la certificazione degli iscritti il fatto che nelle delegazioni che andremo a determinare si terrà conto del combinato disposto del voto dei delegati dell'RSU e la certificazione degli iscritti in modo che qualcuno sperio possa pesare per quello che conta e quello che rappresenta è un valore aggiunto? sì che ci sia l'un terzo non garantito che ci sia l'un terzo non garantito la dico così perché non ce la faccio a dire che non c'è più ok? l'un terzo garantito è un valore indispensabile legato a un principio di proporzionalità? sì l'abbiamo chiesto tante volte sì poi bisognerebbe discutere su come si compongono i collegi perché poi il diritto di proporzionalità non è detto che sia proprio così ma ci ragioniamo ma siccome alcune materie sono demandate ai contratti nazionali ah ma su questi punti non sono mica derogabili né questi non ho detto che c'è scritto che sono derogabili lo sto dicendo alla mia categoria alla nostra categoria non sono mica derogabili con le cose qua poi ci sono dei punti che non vanno assolutamente bene e che a mio giudizio inficiano anche la positività delle due cose che ho detto e per cui noi tutti insieme abbiamo combattuto legare l'accordo del 21 giugno passando da quello di maggio e arrivare a oggi a dire che nella possibilità di deroghe e lo so che ci sono anche le deroghe positive né nessuno me la venga a spiegare così lo so che si può quando tu deroghi puoi derogare anche in termini positivi non ci sia il voto dei lavoratori nella situazione degli accordi aziendali è una questione che non va bene e che infice il percorso di credibilità di tutti quei sindacalisti che sono sempre andati nelle aziende e hanno fatto la determinazione del voto dei lavoratori costruiti insieme il valore aggiunto nel confronto delle altre organizzazioni non va bene e non va bene neanche che si sanzioni qualcuno che non è d'accordo non sto parlando dei lavoratori perché non c'è scritto ok non sto parlando dei lavoratori ma se tu sanzioni il dissenso dove vai anche se minoritario questo non vuol dire che i contratti non debbano essere esigibili però se deve esserci l'esigibilità voglio capire quali sono i diritti indisponibili perché io la dico così la dico proprio così non sono mica democratico del tutto neanch'io io quando tre io quando vado nelle aziende e qualcuno vuol far mettere al voto che si possono licenziare i lavoratori la Cigiella non partecipa è un diritto indisponibile assolutamente sì i bimbi fatti male buttati giù dalla rupe non è al voto della maggioranza allora il voto va riconsegnato ai lavoratori anche sui contratti aziendali è la differenza che c'è tra la democrazia di rappresentanza della democrazia delegata e la democrazia partecipata e non siamo un partito politico siccome non siamo un partito politico ma siamo un soggetto di rappresentanza non può esserci la carta bianca semplicemente perché ogni quattro anni si è votato il delegato la partecipazione e il voto dei lavoratori è la nostra arma vingenta nei confronti anche dei datori di lavoro perché è un'altra cosa è andare su e avere il voto dell'assemblea la maggioranza dei lavoratori in trattativa o dire io rappresento qualcuno per cui la voglio così non è la stessa cosa e i padroni lo sanno bene è per quello che in quell'accordo l'hanno voluto l'hanno voluto così e l'hanno voluto anche le altre organizzazioni sindacali perché vogliono cambiare eventualmente anche la questione della certificazione come si fa a fare l'unità sindacale guardate siccome io credo nel valore dell'unità sindacale credo nel valore dell'unità sindacale io penso che sia dovere di noi mettersi a un tavolo e cercare le condizioni per creare questa unità sindacale ma se non c'è perché non sei d'accordo sul merito è un problema non può diventare un nostro problema si riconsegna il giudizio ai lavoratori e questo è un punto determinante sono noioso lo ripeto a Iosa questa cosa qui non può essere derogata ultima questione così sono stato richiamato dalla presidenza io non sono d'accordo con quelli che dicono che questo congresso ha dei dati falsi me l'assumo la responsabilità perché i dati che sono arrivati sono quelli che sono stati certificati ma altra cosa è dire che nelle assemblee di base che nelle assemblee di base dopo il voto sugli emendamenti a cui tutti i dirigenti sindacali dovevano farlo non aspettare che qualcuno lo proponesse voi dovevate farlo perché era all'interno delle regole previste da questa cosa qui il presidente dell'assemblea avrebbe dovuto comporre le liste la lista mi correggo la lista con un equilibrato rapporto non è stato fatto e non essendo stato fatto non ha dato risultati fasulli ha sfalsato l'opinione dei lavoratori questo è un problema che viene consegnato alla confederazione perché quando si definiscono le regole se saltano le regole del gioco ognuno è libero di fare quello che vuole e ci va di mezzo a un'organizzazione sindacale la CGL a cui io voglio voglio bene voglio rimanere riconoscendo in tanti anni il valore intellettuale non del fidelismo ma della possibilità di criticare anche dall'interno e di essere rappresentato grazie grazie Ugo la parola a Giacomo Mighieli si prepari Rosalba Cicero mi dicono che sono aumentati gli occhiali a disposizione di coloro i quali li hanno persi ce ne sono due nella hall quindi se ci sono gli eventuali proprietari regatevi a prenderli se no apriremo un negozio di ottica ragazzi stateci attenti ma io a differenza di chi mi ha preceduto cercherò di tener conto che questo è un congresso di categoria non è un congresso confederale quindi parlerò nei dieci minuti a disposizione di un tema che Emilio ha toccato nella sua relazione e che io considero molto importante per la ripresa economica del paese perché è facile dire che noi siamo in crisi che stiamo perdendo posti di lavoro che bisogna fare qualcosa per originare questa crisi che dobbiamo mettere in campo le nostre idee poi però dal punto di vista delle proposte che mettiamo in campo forse e dico forse siamo un po' deboli credo che invece Emilio in particolare sul tema dell'energia nella sua relazione abbia tracciato non solo un'analisi ma anche degli orientamenti che forse potrebbero servire a tutta la nostra confederazione se tenesse maggiormente in considerazione quelli che sono i punti di vista della nostra categoria potrebbe servire la nostra confederazione per cercare di svolgere meglio quel ruolo propositivo per cercare appunto di arginare questa crisi e cercare di invertire insomma la tendenza mi riferisco all'energia in particolare citando un dato che Emilio ha toccato nella sua relazione la Germania va a carbone per il 46% a nucleare per il 16% per il resto utilizza le rinnovabili viceversa si ostiene Emilio ma questi sono dati oggettivi l'Italia usa il 14% di carbone importa gas per oltre il 40% utilizza oltre il 30% di rinnovabili che ci costano 12 miliardi di euro di incentivi per la loro utilizzazione questi sono i dati che ha citato Emilio nella sua relazione che io vorrei brevemente approfondire attenzione la composizione del mix energetico dei principali paesi europei ha uno stretto rapporto con i costi dell'energia i costi dell'energia negli altri paesi europei sono mediamente inferiori rispetto al nostro del 25% del 30% i maggiori paesi industrializzati non dell'Unione Europea mi riferisco agli Stati Uniti al Giappone alla Cina alla Russia utilizzano un mix energetico nel quale la presenza di nucleare e di carbone è nettamente più propenderante rispetto agli altri fonti ed è mediamente più marcata che in Europa in Italia come sappiamo come ha detto Emilio nella sua relazione l'apporto energetico è costituito principalmente dal gas e dalle rinnovabili il carbone copre una quota stabilmente inferiore al 15% nella relazione c'è scritto siamo intorno al 14% questo ovviamente determina uno svantaggio economico per le imprese perché poi sono le imprese che creano i posti di lavoro che nel 2012 è stato ovviamente misurato insomma dagli istituti preposti dall'Enea e da altri istituti in un circa 36,9% in meno in più scusate il prezzo dell'energia elettrica rispetto agli altri paesi europei i dati dell'Enea sono quelli del 2012 ma credo che siano indicativi perché nel corso del 2013 non si sono modificati di molto in Italia il prezzo dell'energia è stato da 75 euro per megawattora in Francia 42 in Germania 42 in Francia e in Spagna 47 questa è la realtà mentre in Italia appunto è del 75% questo crea un gap che va aggiunto a quello che Emilio diceva nella sua relazione sul fatto che il 50% quasi il 50% della bolletta elettrica è costituita da fattori che non hanno niente a che vedere con la produzione dell'energia elettrica servono tra l'altro anche a remunerare il capitale degli investitori stranieri in Italia che speculano soprattutto sull'eolico e sul fotovoltaico volevo riprendere brevemente un tema che è quello dei rigassificatori perché Emilio nella sua relazione per approfondire appunto un tema che lui ha trattato dice attenzione noi abbiamo un gap che dobbiamo assolutamente recuperare di questo la Confederazione deve farsi carico noi importiamo energia e le importiamo a costi alti ha detto ha scritto perché abbiamo dei contratti a lunga scadenza che non riflettono più il peso del gas tradotto il metano che arriva via tubo per esempio dalla Russia ha un prezzo prefissato per cui nonostante il prezzo del gas nel mercato come detto anche nelle audizioni che si sono svolte alla Camera dei Deputati e al Senato dall'autore per l'energia è calato e il trend è in discesa del prezzo noi continuiamo a pagare quel prezzo prefissato tanti anni fa nonostante questo ovviamente non sia in linea non sia coerente con l'attuale prezzo del gas se ci fosse la possibilità di utilizzare dei gasificatori quindi utilizzare l'approvvigionamento diversificato di questo parla Emile nella sua relazione forse potremmo avere un recupero di questo gap competitivo perché ti potresti approvvigionare al mercato spot del gas che ha un prezzo notevolmente più inferiore di quello che ti arriva via tubo al prezzo già prefissato bisogna tener conto anche di altre cose sempre citate nella relazione gli Stati Uniti tendono all'autosufficienza e si apprezzano esportarlo poi è vero che per fare questo loro non si preoccupano di quello che può essere l'impatto ambientale perché non avendo le riserve di gas naturali pari a quelle ovviamente dei paesi medio orientali di paesi dove il tasso di democrazia è molto basso come diceva Emilio della Russia eccetera cosa fanno stanno utilizzando la tecnica del fracking stanno producendo il cosiddetto shell gas e si preparano ma io credo a partire dal secondo semestre di quest'anno a invadere l'Europa con lo shell gas che non è altro che metano non naturale estratto appunto con la frantumazione della roccia di argilla con una tecnica molto invasiva dal punto di vista ambientale ma che consentirà agli Stati Uniti di tenere testa all'esportazione di gas di paesi come la Russia con un prezzo che addirittura secondo molti esperti e secondo anche molti quotidiani autorevoli dovrebbe essere circa il 25% di quello a cui arriva adesso stiamo parlando di un quarto del prezzo stiamo parlando dello shell gas questo significa perché come diceva appunto Emilio che per un lungo periodo queste materie prime saranno ancora il cuore della domanda energetica mondiale e nonostante questo noi parliamo di decarbonizzazione è giusto parlare di decarbonizzazione ma stiamo attenti anche qui devo dare atto che Emilio l'ha scritto in relazione in questo processo di transizione di decarbonizzazione gli altri paesi europei stanno dimostrando una prudenza che in Italia non vediamo è perfettamente vero i dati che ho dato prima lo dimostrano e oggi si discute tanto di decarbonizzazione ma non sono molte le persone che si interrogano per esempio sul fatto che nel 2012 nei paesi industrializzati oltre un migliaio di grandi centrali a carbone sono tuttora funzionanti che convivono con l'agricoltura circostante e a proposito di ambiente le emissioni in atmosfera nelle aree vicino alle centrali alimentate a carbone evidenziano che le emissioni delle centrali elettriche contengono il 3% di polveri sottili di PM10 particolare a 10 mentre nel sistema dei trasporti la quantità di polveri sottili quindi di particolato 10 emesso è di circa il 42% se parliamo di ambiente non dobbiamo parlare però a 360 gradi non è possibile che si continui ancora a pensare attraverso un pregiudizio ideologico che il problema dell'ambiente riguardi solamente l'industria in particolare l'industria chimica l'industria elettrica l'industria energetica non è così le polveri sottili sono il 3% mentre per quanto riguarda il sistema dei trasporti sono il 42% o cosa possiamo dire poi del fatto dell'agricoltura lo diceva qualche compagno per produrre un chilo di carne rossa si consuma più acqua di quella che consuma un solo cittadino per un anno intero per gli usi civili o se andate a vedere la Repubblica di oggi c'è scritto che le quantità di gas serra emesse dalla produzione di carne e bovine nel mondo parlo della Repubblica di oggi sono pari a quelle di 24 milioni di automobili quindi agricoltura trasporti per carità con questo non voglio dire che l'industria non debba essere sostenibile se non lo fosse non avrebbe un futuro abbiamo il dovere di lasciare alle nuove generazioni lo stesso territorio che a noi hanno lasciato le generazioni precedenti su questo non possono esserci non possono esserci dubbi vorrei solo che chi pensa che gli uomini e la donna della Filcten invece in virtù di qualche posto di lavoro desiderano vivere in ambienti che sono inquinati dove l'aria il suolo e l'acqua non sono vivibili ecco credo che sia ora di smetterla con questi con questi pregiudizi con questi pregiudizi ideologici l'ultima cosa se me la consenti Carmelo la volevo dire volevo solamente approfondire il tema dell'energia toccato molto bene da Emilio nella sua relazione per parlare un attimo di riformismo io qui sento cosa vuol dire essere riformisti insomma io credo che gran parte dei lavoratori rappresentati dalla Filcten gran parte dei lavoratori abbiano sempre avuto una gestione della rappresentanza dal livello nazionale a quello regionale a quello territoriale a quello aziendale di tipo riformista avendo il coraggio di innovare di riformare di decidere di assumersi le responsabilità so che la nostra categoria è sempre stata caratterizzata o almeno gran parte di essa da questo spirito riformatore che evidentemente non alberga in tutta la categoria per carità chi lavora può sbagliare chi non lavora non corre il rischio di commettere degli errori semplicemente perché non fa niente si limita sempre a criticare quello che fanno gli altri mi sto riferendo per esempio al contratto chimico oggi siamo all'assurdo che per motivi che probabilmente sono estrani al merito delle questioni sento dire che chi oggi critica la camusso dice ma questo accordo non va bene perché non prendete come riferimento il contratto chimico come era pieno di detrattori del contratto chimico hanno detto che noi eravamo troppo riformatori eravamo quasi venduti alle aziende stavamo concedendo delle deroghe che non era giusto concedere adesso gli stessi detrattori coloro che hanno detto che quel contratto apriva la strada a chissà quali scenari catastrofici dicono che no che l'accordo sul testo della presentanza non va bene sarebbe meglio fare come si è fatto nel contratto chimico mi ricorda tanto insomma un film già visto no? gli accordi fatti dove Trentin si presentò a dimissionario al direttivo nazionale e poi ovviamente le sue dimissioni furono respinte le solite critiche e poi chi criticò Trentin in modo molto duro disse bisogna rivendicare il rispetto dell'accordo che Trentin aveva firmato ma che loro avevano steggiato insomma per carità non siamo in democrazia quindi è anche giusto gli altri firmano io li insulto e poi rivendico però quegli accordi per cui chi l'aveva firmato è stato insultato e diciamo che questo è un bel modo di lavorare insomma io credo di non rubare altro tempo Carmelo mi fa segno che devo chiudere insomma buon congresso a tutti grazie Giacomo Rosalba Cicero si prepari Umberto Pisanti ma io devo dire che nelle 1165 assemblee che si sono tenute in Filtem in Filtem in Lombardia molta della nostra discussione oggettivamente non ha avuto protagonismo diciamo che laddove siamo riusciti a ragionare con i lavoratori le questioni hanno toccato sostanzialmente il tema delle pensioni e soprattutto il tema del lavoro chiaramente il lavoro che manca il lavoro che crea esclusione sociale quindi secondo me come dire ha fatto bene Emilio nella sua relazione a porre l'attenzione davvero su quello che è il cuore anche di questo congresso quindi il tema dell'esclusione sociale che allarga le disuguaglianze che allarga la povertà e che noi sappiamo benissimo che non è che nasce in questi sei anni di crisi ma nasce in 30 anni di liberismo di finanziarizzazione senza regole dove ci hanno detto che il mercato doveva essere al centro di tutto e tutto questo ha prodotto come dire quel declino industriale quel declino economico quel declino sociale che noi tanto abbiamo denunciato in questi anni e che oggi è sotto gli occhi di tutti e allora io la prima affermazione che mi sento di fare è che credo che il primo punto a mio avviso sia quello di riconoscere il ruolo che la CGL ha svolto in questi anni un ruolo che è stato come dire di di stimolo di denuncia di provare a contrastare un pensiero unico questo pensiero unico che dicevo prima del valore del mercato rispetto invece al valore del lavoro e della dignità del lavoro credo che con la mobilitazione con gli sciopri che abbiamo fatto in questi anni come dire abbiamo tenuto alto il vivo e viva questa coscienza ma lo devo anche dire c'è stato un ruolo svolto anche dalle categorie dalla categoria come la nostra che ha provato come dire a mettere al centro un altro modo di stare in campo in una situazione difficilissima complicata che voleva ai margini il sindacato che lo voleva voglio dire in qualche modo rendere residuale ininfluente e aver avuto una categoria io credo come la Firtem che ha fatto semplicemente il suo mestiere non è un movimento politico è un sindacato che cerca di stare nei luoghi di lavoro con la gente di avere a cuore innanzitutto la condizione concreta e materiale che è cambiata in questi anni e credo che aver avuto in campo una categoria come questa che ha fatto della contrattazione come dire davvero il core business come potremmo in qualche modo semplificare beh sia stata una cosa molto importante quando parlo di contrattazione parlo non solo di contrattazione a livello nazionale sui contratti dove poi dirò qualcosa ma parlo di contrattazione laddove effettivamente noi abbiamo visto il cambiamento porre i suoi effetti spesso controproducenti per le singole persone per la propria condizione allora credo che questo sia un punto che noi dobbiamo sempre tenere presente allora oggi quale può essere l'obiettivo che ci poniamo io credo che rispetto a un declino che è sotto gli occhi di tutti come dire due sono le questioni almeno per ciò che riguarda noi per ciò che riguarda la nostra categoria c'è il tema dell'occupazione dobbiamo provare a porre come riorientare una politica economica industriale in questo paese e cosa questa categoria può fare c'è il tema delle tutele di difendere quelle che ci sono ma anche per chi non le ha per chi non ha questi diritti e allora come andare oltre come dire i punti che abbiamo acquisito in questi anni continuare a difendere ma allo stesso tempo anche come dire provare ad avanzare allora sull'occupazione io credo che piano del lavoro la proposta le idee nostre come categorie come categoria su come stare in campo sulle strategie industriali in Lombardia come Filtem abbiamo presentato anche lì le nostre proposte come piano del lavoro insieme con la CGL cioè tutto questo lavoro di elaborazione di proposte concrete e per ciò che ci riguarda quindi la ricerca la chimica il suo ruolo di penetrazione di innovazione e sostenibilità in tutti i settori la questione dell'energia e come gestire la transizione tra il tradizionale e l'alternativo la questione di come tenere insieme la filiera della moda e tutto questo o noi proviamo insieme a declinarlo all'interno dei territori e a farlo vivere unitariamente a costruire consenso con le istituzioni con le associazioni presenti con le associazioni imprenditoriali o noi proviamo a fare questo lavoro oppure guardate nulla potrà andare avanti io non credo soltanto che noi possiamo affrontare il tema dell'occupazione soltanto con i tavoli a livello nazionale che senz'altro hanno una loro importanza hanno una loro specialmente quando parliamo di grandi gruppi che stanno sparendo dal nostro territorio e senz'altro c'è un problema di condizioni come dire di sistema per cui le multinazionali dobbiamo far di tutto perché restino nel nostro paese ma c'è un tema al pari importante che è quello di far vivere di far crescere dai territori progetti dove davvero noi possiamo in parte difendere l'occupazione che c'è ma in parte creare anche nuovi posti di lavoro dove diciamo che il nuovo paradigma deve essere quello della sostenibilità io non so nelle altre regioni in regione Lombardia stanno arrivando due milioni di investimenti più altri venti sia dall'Europa che dall'Iterno o noi lì ci siamo e ne orientiamo come dire le condizioni oppure guardate lo fanno gli altri e noi come dire rispetto a chi rappresentiamo non saremo stati quelli in grado di dare delle risposte concrete quindi credo che un primo punto sia questo la seconda questione è quella appunto di come estendere i diritti di come far vivere la contrattazione di vedere come noi riusciamo come dire ad andare avanti dal punto di vista della contrattazione io credo che per quanto riguarda la tutela e l'estensione dei diritti oggi più di ieri serve fare sistema e servono relazioni industriali forti e serve un sistema di partecipazione dove noi ci siamo con la nostra capacità di determinare orientamento con la nostra capacità autonoma di mettere come dire le nostre idee al pari di quelle che ci vengono presentate dall'altra parte del tavolo e allora se questo è io credo che tutto sommato guardate con i chiari e scuri che noi abbiamo avuto in questi anni con tutti gli elementi di debolezza il sistema di partecipazione che ha sperimentato questa categoria e che quantomeno è stato l'unico in campo voglio dire che ha prodotto comunque dei risultati beh io credo che questo sistema è quello anche che in qualche modo ci ha permesso di chiudere possiamo dire quasi tutti i contratti nazionali io credo che anche questo è un altro elemento di riflessione non è poca cosa non è poca cosa altre categorie non sono ancora riusciti a farlo altri hanno deciso di non firmare i contratti con ragione con non ragione non voglio entrare nel merito qui però come dire questa categoria ha prodotto questo risultato e allora senz'altro c'è un sistema di relazioni che non nasce oggi che va valorizzato e che va rafforzato e poi vediamo anche come va riorientato e qui io concordo molto davvero mi fa piacere che anche nella relazione di Emilio davvero c'è stato molto ascolto della discussione del dibattito che si è aperto nei territori su questo tema adesso insieme dobbiamo vedere come provare a darci degli obiettivi per per i prossimi per i prossimi mesi allora io credo che intanto come dire l'obiettivo principale se parliamo di contrattazione sapendo che come dire noi siamo riusciti fino ad oggi a mettere un argine alla destrutturazione del contratto nazionale siamo riusciti a non far passare una via bassa di stare nella competizione penalizzando fortemente come dire tutta la parte legata agli aumenti salariali eccetera quindi tutte le cose che ci siamo detti anche in questi mesi di rinnovi di contratti nazionali l'obiettivo però sapendo che noi oggi rappresentiamo una parte del mondo del lavoro dobbiamo dircelo sapendo che rappresentiamo una parte e sapendo che ancora c'è un pezzo che ne è fuori quindi c'è un pezzo della non tutela c'è un pezzo che è nel precariato eccetera beh noi dobbiamo provare io credo qui a darci degli obiettivi un po' più forti e penso ad esempio a chi al tema della stabilizzazione dei contratti a termine in contraposizione a quello che sta avvenendo avanti oggi anche dal punto di vista del governo penso alla contrattazione d'anticipo quando parliamo di ristrutturazioni di crisi penso alla responsabilità di filiera delle aziende committenti non solo sulla sicurezza ma su una produzione etico-sociale penso al fatto che la contrattazione di genere diventi anche il nuovo paradigma su cui misurare quella reputazione che diceva Emilio nella sua relazione l'obiettivo del benessere anche per il lavoratore non solo per l'azienda credo insomma che su tutto questo noi dobbiamo essere in grado di costruire degli obiettivi per il futuro che riguardano il contratto nazionale ma riguardano anche la contrattazione di secondo livello perché guardate ripeto se non vogliamo essere appunto marginali noi ai lavoratori risposte concrete poi gliele dobbiamo dare e io devo dire che tra il lavoro fatto dalla struttura nazionale tra la contrattazione di secondo livello fatta in Lombardia 1200 accordi in sei anni nonostante la crisi acquisitivi e non difensivi e i contratti dell'artigianato di secondo livello che abbiamo chiuso per tutti i settori in Lombardia ci hanno permesso in qualche modo come dire di svolgere questo questo ruolo ecco io credo quindi e finisco su questo che se noi vogliamo davvero che il lavoro decide il futuro e che questa categoria come dire sia un punto di riferimento forte e di supporto a tutto quel lavoro che anche come CGL e come categoria abbiamo messo in piedi beh noi dobbiamo provare a coniugare l'obiettivo strategico con il nostro impegno quotidiano di tutti i giorni grazie 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 Rosario